Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi rispondo a una domanda che mi fate spesso, che è su che supporto posso dipingere con i miei acrilici e come devo trattare questi supporti per poterlo fare? La risposta alla vostra domanda su che supporti posso dipingere con i colori acrilici è veramente molto semplice, su quasi tutti i tipi di supporto. L'acrilico si può utilizzare sulla tela ovviamente, sul cartone telato, sul legno, sulla ceramica, sul vetro, sul tessuto, sulla plastica a volte, insomma. È veramente un tipo di colore molto versatile che si può utilizzare veramente su quasi tutti i supporti. Prima di guardare ogni supporto e come trattarlo per poterci dipingere con i nostri colori acrilici, guardiamo su che cosa non possiamo utilizzarlo assolutamente. L'acrilico non può essere utilizzato ovviamente su qualcosa di già verniciato. Quindi se avete dei mobili che vi piacerebbe tanto poter dipingere con l'acrilico, non potete dipingerci direttamente, perché anche se all'inizio sembra che la pittura acrilica grappi bene e tutto proceda nel migliore dei modi, alla fine del vostro lavoro probabilmente, o dopo poco tempo, scoprirete che l'acrilico si stacca, perché la vernice fa come una pellicola di plastica su cui poi il nostro acrilico tende a staccarsi come una pellicola. La soluzione però è molto semplice, basterà sverniciare il vostro mobile. I modi per sverniciare un mobile o un qualsiasi supporto sono veramente tanti. Si passa da dare uno sverniciatore che poi va lasciato in posa, coperto in modo che faccia un po' l'effetto serra e poi raschiato via, a passarci invece la carta vetrata, insomma, sun oppure se la vernice è veramente pochissima, basterà passare una mano molto leggera di carta vetrata e poi dare un aggrappante. Insomma, i modi sono vari a seconda di quanto e di come è verniciato il vostro mobile. Una volta tolta la vernice, non dovrete fare altro che passare una mano di aggrappante e procedere con la vostra pittura acrilica come se fosse una tela. Ma veniamo a come trattiamo i nostri supporti per poterli utilizzare con l'acrilico. Per prima cosa, quelle più usate sono le tele. Le tele, quelle che acquistiamo già fatte, già finite, sono dei tessuti, possono essere di vario tipo, di cotone, di lino, quant'altro, di miste, quant'altro, che vengono tirate e attaccate con le graffette sopra del legno, una cornice di legno, e poi dopo vengono trattate con il gesso acrilico. Quello che vedete è bianco, non è il tessuto, ma è proprio il gesso acrilico che viene dato sopra. Più mani di gesso acrilico vengono date e più sentirete meno la trama del tessuto e quindi il colore scivolerà sicuramente meglio e sarà anche più adatto a dipingere delle scene o dei soggetti più descrittivi. Se le tele volete costruire da soli, nulla vi vieta di utilizzare del cotone, delle lenzuola, del lino, insomma qualunque tipo di tessuto vogliate utilizzare. Come vi ho detto, trattarlo molto semplice, basterà fare quello che fanno le ditte che producono le tele, ovvero passano sopra delle mani di gesso acrilico. A questo punto potrete dipingerci ad acrilico, ma perché no, anche ad olio. I cartoni telati non sono altro che dei cartoni che hanno sopra attaccata una tela, un tessuto, che poi viene trattato con il gesso acrilico. Sono sottili e quindi spesso tendono a piegarsi, soprattutto se si va su dimensioni un po' più grandi. Potete dipingere anche su legno. Il legno che potete utilizzare è qualunque tipo di legno, purché non verniciato, quindi potete utilizzare l'MDF, potete utilizzare l'abete, potete utilizzare anche il compensato, insomma qualunque tipo di legno. Purché lo trattiate? Come fare a trattarlo? Se è un legno naturale, quindi molto poroso, vi conviene passare sopra un turapori. Che cos'è un turapori? È una sostanza, è un qualcosa che serve per chiudere i pori del legno, che se sono aperti perché il legno è naturale, assorbono tanto colore. Il turapori lo potete fare molto semplicemente anche voi, prendendo un bicchiere e mettendoci un po' di acqua e un po' di vinaville, mescolate bene e date una o due passate, lasciando asciugare fra una passata e l'altra. Una volta che avete fatto questo passaggio, non vi resta che dare o una mano di gesso acrilico, di nuovo, oppure anche semplicemente una mano di acrilico bianco, o nero se volete dipingere sul nero, perché no? Questo vale non solo per le tavole di legno, ma vale anche se volete utilizzare una ciotola di legno per dipingersi sopra o una di quelle forme, magari natalizio, che ne so io, di legno, potete fare questo trattamento. Su che altri supporti possiamo dipingere con gli acrilici? Il vetro? Alcuni tipi di plastica, vi ho fatto vedere già in un tutorial, come i pennarelli con l'acrilico, si possono utilizzare, per esempio, per le cover dei, per dipingere le cover dei telefoni. Anche in questo caso, che cosa dobbiamo fare? Sia per il vetro che per questa silicone o plastica, basterà semplicemente pulirli bene e sgrassarli. Con l'alcol va benissimo. Se volete utilizzare la carta per dipingerci con l'acrilico, dovete scegliere la carta in base a ciò che volete ottenere. O meglio, non esiste solo una carta adatta per dipingereci con l'acrilico. Potete utilizzare tante carte, ma molto dipende da quello che volete ottenere. Diciamo che una carta troppo sottile la scarterei perché comunque, essendo un colore adatto, quasi si disfa la carta troppo sottile come può essere quella della risma o da fotocopie. Quindi vi consiglio sempre di avere uno spessore minimo almeno di 200 grammi, 250. Poi potete scegliere se utilizzare una carta 100% cotone come quella che si utilizza per l'acquarello. In questo caso, l'acrilico verrà assorbito, meglio, l'acqua che è dentro l'acrilico verrà assorbito come succede nell'acquarello e quindi si creerà un effetto molto diverso per esempio che se utilizzate una carta con della cellulosa o quasi solo cellulosa metà 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 cotone metà cellulosa o solo 100% cellulosa che invece essendo di plastica fondamentalmente lascia l'acqua dell'acrilico in superficie e quindi ce lo fa utilizzare per più tempo. Bene, spero con questo video di avervi chiarito qualche dubbio sui supporti che possiamo utilizzare con l'acrilico e come trattarli di conseguenza se vogliamo utilizzarli. Se avete delle domande ovviamente non esitate a farmele qui sotto nei commenti del video e io vi risponderò il prima possibile. Grazie per avermi seguito anche in questo nuovo video e noi ci vediamo al prossimo. Grazie. Grazie.